Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buon Dio. Ho in lei di qualche bande che n'arte di Vinci all'eve sul martiat e quando accettava un uccelluto di schiaipole lo comprava, viaggiava la portella di schiaipole e lo liberava. Si che pensavi e contavi a Tony, Dio c'è biel che fosse arrivare a liberare chi che sono schiaipole delle regole, perché hanno un uccelluto di schiaipole, oppure che sono schiaipole delle opinioni che gli altri siano di loro per essere accettati di chi gli altri. E Tony mi ha detto, ma questo uccelluto che lui lo liberava, forse aveva un uccelluto di tornare schiaipole, che aveva un uccelluto di sicurezza e anche l'uccelluto di schiaipole. E così queste persone che hanno bisogno di sicurezza, o di essere accettati, forse ti ha un uccelluto di schiaipole lì, delle opinioni che gli altri siano di loro e delle regole osservate. Osservate, attenzione, 4, 9, 10 di che persone lì, guai. Buona giornata e buona vita.